Ok, va bene, ok, ci sta, aspettate, aspettate che iniziamo, settiamo, vai, buono. Bene, ciao a tutti, ciao, freddo, tanto freddo, buono, perfetto, qua siamo, ciao Gogi, ciao Cas Claudio, siete subito, siete prontissimi oggi, mi aspettavate a Gloria, o sbaglio? Mi aspettavate a Gloria? Buongiorno Nico, ciao a tutti, Nico ciao, Rick buongiorno, buongiorno Ninja da tavola, ed eccomi un nuovo video. Lo sai che Toma Sangri io lo guardo tantissimo, ma veramente tanto. Ok, così almeno vi vedete. Ciao Dekideki, ciao Simo, ciao Gamer Secco, ciao a tutti, oggi subito entrati nel mood. Sì Rory, ciao Zero, ciao Bulbasaur, vi conviene passare su Twitch perché vedete meglio la live. Ciao Cas Claudio, non vedi su Fortnite, in questo momento non ho per nulla voglia di fare Fortnite, è proprio, ragazzi, è proprio Zero, Zero, così. Casomai la faccio dopo, sono indecisa tra Forte e The Witcher, tanto il mio ragazzo dorme e dormirà, credo, tutta la sera perché fa un po' così, va a letto alle 7, è diventato vecchio, sai. Si ha 22 anni ma è diventato vecchio, vecchio dentro in realtà. Fa la formazione ora, è la madonna, cioè, così, della serie, non è per favore, posso giocare, no, fa la formazione, è stronza, adesso. Davi raga, bravissimi, bravi, bravissimi. Eccoti Gamer, come state, tutto bene? Tutto bene raga? Povera Arden Dola anche tu per una povera Arden sfruttata Cerca GamerTag la vedo, che facciamo squadre Bulbasaur82, ti prego, vieni a scrivermelo su Twitch perché se no non riesco a vedervi tutti Come sta il tuo ragazzo? Tutto bene, tutto bene, soltanto che adora... Oh, guardate, vedete le mie dita? Adora dormire È diverso da me, io non amo dormire Non più di tanto, cioè, riesco a stare sveglia, diciamo, 3, 4, cioè, dormo 3, 4, 5 ore a notte, 6 ore, se mi va bene Quindi, oh, comunque sia, guarda, il Captain, là in basso, vi vedete? Mi inviti? Ok, bro, eccoti va Comunque sia, Gamertag, Arden Chan, hashtag 2326 Quindi potresti anche trovarmi facilmente, Bulbasaur Ciao mia fanpage ufficiale Mi sa che oggi si è mangiata la lasagna, sì, sì, l'ha fatta e infatti dopo in live la mangeremo, la degusteremo, degusteremo la lasagna Ecco, c'è anche l'invasione del gatto Aspettate, che ora la prendo con molta dolcezza La vedete anche voi In super impressione Oh, e ora smettete a dormire Io amo dormire, è troppo comodo, no, raga, io non amo dormire Ma Overwatch si scarica gratis? Certo, zero Si scarica gratis, è gratuito Per tutti Viva le lasagne Eh, dopo l'assaggiamo, l'assaggiamo in diretta Quindi se l'è buona, lo dico Cristina mi ritiene, sveglio fino alle 2 di mattina e mi sveglio alle 7 Ah, ok, ottimo Ecco, sì, dopo facciamo un po' di food Non lo so se posso dire quella parola, visto che c'è anche TikTok E le office, mettiamolo così Mettiamolo così, appunto Ok Al modo di giocare Degli avversari Lo riputava bullismo ieri Era ieri? O ieri l'altro? Boh Ciao Mike Io ho il tuo stesso gatto Ma guarda i certosini sono tutti uguali Io ne ho due di certosini Facciamo due qua e due qua Ne ho due E GTA Si può fare lunedì pomeriggio No, domenica, domenica, domenica Raga, perché domenica finisco di fare shooting No, domenica mattina si può fare GTA E poi io vado a shooting alle 13 Contate due ore Quindi alle 15 Ecco, riparto Arrivo a casa alle 15 e mezza 15 e 40 Perché il Maseo dice di peggio Sì, ma il Maseo non fa in contemporanea su 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 TikTok E A me TikTok mi odia Infatti il profilo da 24.000 followers Non lo sto usando Perché tu dici Ma perché non usi il tuo profilo main Quello da 24.000 followers Perché mi hanno bannato le live Così a cavolo di can E quindi Sto usando un linguaggio Super, mega, iper Supremo Ammazzare sti due Perché Sono uno peggio dell'altro Raga, aiuto Allora, mi metto qui Ecco Ottimo Attenzione Allora Ora mi Burdello Lucio Mer Meh no, no, no Me la sburdellavo Su TikTok sono più severi No, no Non è che sono severi Sono caga cazzo Non puoi dire niente Assolutamente Gioga fortale dopo Raga Si guarda Perché in questo momento Non ho Non ho molta volta Io ci sono comunque Certamente Quando gioco a GTA Giochi con me Shadow e Shrek Si uniscono la partita Mi sembra Un bel No Modo di giocare Eh Love Diva Vieni qua Vai Madonna Non posso aiutarti Bro Raga Qua c'hanno troppi tank C'hanno veramente Troppi tank E non posso fare niente Con tutti sti tank Quello Quello Mi è Madò Ecco Bravo 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 Metti Rainat Va Ok Se non L'ammazzia Ma Quell'uso Non vuole Non vuole morire Niente Mi ha ucciso Oh Rick Giochi fortale dopo Vediamo Vediamo Buonasera La Diabla Come va Comunque si raga Passate su Twitch A parte che vedete meglio La live E poi Vabbè Abbiamo anche una community Molto Ardita su Twitch Cioè Abbiamo Siamo in 110 E in più Abbiamo Discord Quindi Proprio se volete Una live migliore Passate su Twitch Se vi piace I giochi Se volete Una community Se volete Divertirvi Madonna Bastion 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 Passa 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 qui Passa qui Passa qui Passa qui Passa qui Io Più che curarti Oh io gli urto In faccia Mi ha rotto Il porco Il porco M'ha rotto Ok E' morto E' morto No Mi ha ucciso Chi? Ho mezzogiorno di fuoco Non lo sentivo Come ha fatto A diventare Uno streaming In che senso Come è fatto A diventare Uno streaming Come è fatto A diventare Uno streamer Buono Accendi la live E fine Cioè Lo streamer Lo diventa Chiunque Fa streaming Poi Io più che altro Se intendi Come fai Avere pubblico Il mio pubblico Viene dai miei profili Instagram Tiktok Che infatti Infatti se qualcuno Deve iniziare A fare streaming Deve iniziare Ad avere pubblico Sugli altri social Perché se tu arrivi Su twitch Senza avere pubblico Sugli altri social Rischi di fare la fine Di tutti Che non Non Oh finalmente Mi sono vendicata Valedetto Rischi di fare la fine Di tutti Di non fare views Eccetera Crusader Speed Io Io Do vita al tank Che si chiama Shrek E a noi piace Shrek Vero? Ci piace raga Shrek Shrek Sambari Na Na No Na 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 Uccidio Si parla Osviamente Di Video Gioco Vabbè qual'è il tuo item per il Burger King? ah, qual'è il mio frattore sandwich? ooo, io mi piace... io mi piace... io mi piace Aya siamo tutti morti, porca puttana! io mi piace il chicken wrap io mi piace il chicken wrap perché mi piace il crispy chicken è molto buono il crispy chicken I'm not somewhere sai perché Baio ho fatta lasagna? perché gli ho detto che la mangiavo io, ha rosicato l'ha fatta no, Baio l'ha fatta perché credeva che io non avrei mangiato allo shooting male, ho l'influenza, mi dispiace credeva che io non avrei mangiato allo shooting perché di solito capita così che io quando ho sciuto non mangio però il fotografo mi ha offerto il pranzo e quindi ho detto va scusa se me lo offri perché dire di no? dai curati ti prego e c'è il gatto che mi si aggraffa brutalmente ok ok morto eh io veramente devo fare lo zapping tra i tank veramente come sta Yarden? tutto bene, tutto bene raga ma c'è un moderatore almeno su TikTok eh comunque si il video sta andando bene siamo a mille mille passa like speriamo che cresca ancora se no io ho paura di venire oscurata dallo smerdamento pubblico che ha fatto Shakira c'ho mezza paura però dai almeno un millino di like ha fatto però vabbè non ha risolto la situazione però pensavo che venisse a collaborare qualche qualche streamer più che altro vedendo la situazione venisse a collaborare qualche streamer forse Porto no non c'è Porto non lo vedo dark lady guarda che io adoro la dark lady di oh dio di sailor moon che appunto il cosplay è chiamato dark lady e non vedo l'ora di portarlo non so se c'è ok tranquilla no vabbè se vuoi se vuoi si cioè più che altro per la chat così almeno arriva gente spero se vedono un po' di interazione boh vado io ma sai un gioco gratis questo è un gioco gratis oh si scusami questo Fortnite altri giochi gratis non mi ricordo Crusader ecco se ne sei andato lontano lontano prego se ne è andato troppo lontano io così lontano non arrivo ok ne ho ammazzati due dove è andato il robot? oh dove è andato sto robot? perchè è andato via? sigma lo mangio io fatto meno male abbiamo lasciato abbiamo lasciato dove baio mi ha detto che gli avevo fatto vedere voi di lasagna e comunque sia baio si è un pochino arrabbiato del fatto che io non avessi mangiato fuori perchè lui voleva che io mangiassi la lasagna e io ho detto ma scusami non lo sapevo che cucinavi di solito non cucina mai cioè cucina rare volte nuovi pasti e io ho detto eh no se lo sapevo non mi facevo offrire il polpo con le patate che era buono eh perchè siamo andati al mercato del petto di Firenze era mi ha ucciso era buonissimo ciao perchè ti vedo sempre in nero perchè grazie Yuno per stare lì mi vedi sempre in nero perchè io ho lo stile gotico dark c'è la gente all'epoca di miei genitori lo chiamavano dark mia mamma era dark e bionda era bionda dark con occhi verdi la tipica che ora si chiamerebbe gotico anche se è un misto il dark può essere varie 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 e più stili merdina madonna ecco ma come si chiamano questo gioco che lo scrivo sulla play 5 overwatch 2 metti 2 ormai non sono più Yuno ora sono Ardenchan ma sono io Ardenchan tu sei la mia poppice al palpage fatti chiamare Yuno vabbè questa l'abbiamo vinta gli abbiamo dato le paste né più né meno non posso manco ingrandire qui vabbè se lo vedete vedete tutto più o meno oh gra- chi mi ha elogiato fammi elogiare io elogio Shrek tag Ciao Ori, tutto bene, tutto bene, tutto bene Vai, ok, ti chiamo Elisa allora Tutto bene, te e Ori come vai? Io ti adoro per come sei simpata e fai sorridere alla gente Che gentile, sei davvero gentilissima Però sinceramente non comprendo come mai su TikTok Prima andavano molto meglio le live Mi ricordo che quando avevo il profilo da 24.000 Che quando iniziai a streamare su TikTok con l'altro profilo Le live c'erano sempre un sacco di gente Perché ti mandava, ti spammava praticamente Ora che hanno messo il, che le live le devi pagare per spammarti È un pochino più bruttina la situazione Ma perché mi stai ignorando di soddisfarlo, come si chiama? Ma, Mike, io ti ho risposto, ti ho detto Overwatch 2 Raga, gli potete confermare che io ho risposto? Mike, non ti ho ignorato, ti ho anche risposto che si chiama Overwatch 2 Prima di dire che ti ho ignorato, per favore O ti senti bene la live O non lo so Eh, lo avevo detto Non sono stronza Sono obiettiva Cioè, non so Allora, non solo te l'ho detto Ma te l'hanno scritto anche gli altri Confermo Grazie, raga Vi leggo Ti leggo, Elisa Ti leggo Ho letto sia Elisa e la diavola Vi vedo Vi ho letteralmente qui sotto Dov'è la mia mano? Dov'è la mia mano? Ah, ok Qui sotto Ok, con due telefoni che vi vedono È la mano Ok, morto uno Aia Ok, qua c'è la cura Nel prossimo gioco puoi controllare se c'è box tv nella play Che vuol dire box tv nella play? Che vuol dire? Scusatemi Non comprendo Che cos'è un box tv? Che cos'è? Che cos'è box tv? No, no Meh Perché non mi rispondi mai su IG? Perché su IG ho 200.000 messaggi E praticamente prendo un'ora al giorno Per leggere e rispondere a tutti Salvo quei giorni Salvo quei giorni Tipo come oggi Che tra shooting Live E Far andare quel tiktok virale E controllare le statistiche Non ho avuto molto tempo Ti fa un gioco che c'è un mostro che rimbalza Tu devi prendere i giocattoli per completare il puzzle Non lo conosco e non so se è un mio genere di giochi più che altro Io gioco ai giochi che prima mi piacciono Perché se non piacciono a me Non saprei portarli E' una questione semplice Non posso portare un gioco che non mi piace Perché se non mi... Cioè posso provarlo Quello sì Ma se proprio non mi piace Non... Viene una live brutta Infatti GTA stiamo cercando di farla venire bene Perché obiettivamente non mi piace tantissimo GTA Però cerco di farla in maniera tale Che mi possa piacere anche a me Quindi organizzando eccetera eccetera Prima non puoi vedere Ma forse solo da computer Non lo so Non conosco questa opzione mai Che ti sono sincera Non la conosco Non so minimamente di questa opzione Però posso controllare Posso... Dove sei? Io devo curare Vabbè si è curata da solo Aia 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 Grazie 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 Vieni Rob Diva Per favore Ok io ho l'ulti pronte eh Vado in avva scoperta E ulto Una Due Oddio no Ok Uccisa tre Ok Vai Non ci sono più Correte Corrite Gli terzi sono pure io Ma sono tutti nabbi Guarda Da Diablo Se voi giochiamo insieme Ma io non sono questa granché giocatrice Di GTA Sono nabba Te lo dico Sono molto nabba Più che altro Credo che sia bellino Portare su GTA Le Le cose Le Come si dice I giochi Quelli Casuali Chiamiamoli così Giochi casuali Vieni qui Ricche Ok Ottimo curato Vai posto Domani fai una live a che ora Allora domani io ho anche lavoro come oggi Quindi potrei Non è detto Perché Dipende Potrei fare una live al mattino E ovviamente quelle serali Ok Idem lunedì Io lavoro la mattina E poi di sicuro farò le live serali Quello si Ah vado Love Diva Io non ho tanta cura Quindi non andare a capopitto Come Fai Perché io non avendo così tanta cura Rischio di Non farti guarire In più se mi devo Switchare Ok Vado Buono Buono Diabla mi accetta la richiesta Diabla se Vabbè no rimani qua Se potete condividete la live Perché Non siamo molto Full mini Su tiktok Non ci conoscono Salve Arden Fortnite Quando Allora Oggi non ho molta voglia Di fare Fortnite Però potrebbe cambiare Durante il corso Della live Vediamo un attimo Aia Non so chi è Ah Ecco Trovata E morici Oh Jesus Christ C'è il martellonski C'è il martellonski Ok Morto Ai 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 Male Morto Love Diva Ecco Torna indietro Torna indietro Non puoi più andare avanti Abbiamo una Moira Pugiasca Chi A chi Che so diventare franci Spagnola Dai raga Che riusciamo A vincere Proprio Vabbè Che l'abbiamo vinta Anche prima Dai morta Vai Madonna Eh no Non riesco Mi danno le paste Mi ricordo che Mi scriva Ok Milu Dove vai Non andare Dove ci sono Cosi da collezione Di Yu-Gi-Oh Dio signore 18 kill E poi sono morto 21 kill E 3 morti Noi siamo Noi siamo più o meno Hai visto i miei Commenti Sono i tuoi video Di tiktok Quello che ha scritto Riguardo Sì sì L'ho visto L'ho visto E ti ringrazio Se puoi però Tagga anche altre persone Perché solo taggando Commentando Tipo spamming E Salvando di sicuro Salvando di sicuro Tutto qui E Guarda qui Che facilanza Morta 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 Ok Presi 2 Dai 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 Sì Sì Possiamo sentire La vittoria E abbiamo vinto Ok Dopo lo faccio Ciao Sara Ciao Sara Ciao a tutti Per la domanda di prima Manu Overwatch Ciao Il boss L'instagram Arden Chan Lo trovi in bio Comunque sia Ciao Manu Ciao ragazzi Condividete la live Vabbè se c'è un problema Di connessione In che senso Che è successo No Non lo so Scriva su Discord Io Please Ma cosa succede Lo so Ah ok ok Ottimo Perfetto Mascia e orso Spendi la live Ma che Chi è Mascia e orso Si Ecco MVP Ma come Mascia e orso Che cosa Qualmai oggi Su Discord Mi ha scritto Visto Che ho visto Che ha cambiato L'immagine del profilo Mi ha scritto Oh l'hai visto Che ho cambiato L'immagine del profilo Io ti ho detto Ho visto Se ho visto Oh Hola Elisa Dimmi Dimmi Elisa Dimmi Ditemi Ditemi tutto Vuoi I veicoli mod No grazie Ho fatto 18 eliminazioni Consecutive Io non lo so Ciao Ardenchan Se ti va Aggiungimi Agli amici La mia battaglia La vedova La vedova Ciao Micuzzo Benvenuto Nella live Che tu sei Bulbasauro 82 di tiktok E il mio battletag E il mio battletag E Ardenchan Hashtag 2326 Se mi aggiungi Ti metto nel gruppo Ma a che ora Stacchi la live Non lo so Vedo Quando mi è venuta Noia la stacco Però di sicuro Cambierò gioco Faccio vari cambi Raga se potete Aiutatemi Scrivete in chat Il mio battletag Così la vedova Può aggiungermi Grazie Comunque Mi hai salvato La vita Tante volte Ottimo Grazie Mi tiene sono Che rango sei Voi tanto Fate per GTA Tranquillamente 3 2 1 Queimai oggi Mi hai scritto Visto Ma Non mi si sente Ho detto Visto Perché Forse c'era La pubblicità Ti ho detto Visto Perché Mi hai scritto Hai visto La mia immagine Del profilo L'ho cambiata Su discord Io ti ho detto Visto Nel senso che Ho visto Che hai cambiato L'immagine Del profilo Su discord Allora Vediamo un po' Chi cavolo c'è Oh ma Chi è Chi è Chi è Ah ce n'è uno Laggiù Aspetta che vado A mangiarlo Madonna Ho sbagliato Dov'è Fammela uccidere Uccido 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 Veravissimo Vai 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 Ti curo Ti curo Ti curo Ti curo Vi curo Entrambe Adesso Vi curo Entrambi Siete curati Entrambi Siete curati Siete curati Bene Eh ho finito le cure Non ho più cure Non ho più cure Per nessuno C'è un genji Tensione C'è genji Eh non posso curarti L'ho finita Eh Moira è così Ha il braccino corto Che le cure Proprio così Nii Discord Del server Ma io intendevo Dobbiamo cambiare L'immagine Il disco Del save Ah Ok No 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 Lo credo Va bene così L'immagine Mi piace Anche perché poi A novegro Andrò così Alla fiera del fumetto Vestita Quindi così Mi riconoscete Quelli che Sono nel gruppo E che vogliono Vedermi A quella fiera del fumetto Eh Me 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 Morto Oh Signum Sium È diva Tu sei andata Un po' Troppo oltre Oh 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 Tu Tu spingi Che fai Che ti gratti Forza Lavativo Dopo non Vengo Cambiamo Me la mettiamo la faccia La tua faccia Sopra la barca In che senso La mia faccia Sopra la barca Love diva Vieni qui Buoni Perfetto Perché la mia faccia Deve essere sopra la barca Io ho 48 di rango Ah più o meno Come me No Madonna questo Che Buone Oh Senti Se vuoi morire Non è colpa mia Io non volevo anche Lasciarti vivo Ok Vai Sono sopravvissuta A bastione Quella Mi para È la madò Picchialo 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 Vai Morto Vieni 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 Aiuto Bene 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 Mi piace Mi piace Mi piace Ti indovini Veicolo Modo D'amestite Ok C'è un'altra diva Oddio Signore Stavo per schiattare Aspettate Mi metto dietro Love diva Love diva Vieni Qui Ok Bono Boino Ma Mircuso Mi ha aggiunto Mi ha aggiunto Mircuso Mircuso Ci sei ancora Bulbasaur Ci sei Ed Sì Ok Ardenchan Hashtag 2326 Se mi hai sentito Scribilo Così Posso aggiungerti Ero caduto da Tranquillo Non problem Non problem Nessun problema Nessun problema Quello si Un poco più Raga Continuate a condividere Allora Sto aspettando La Richiesta Di amicizia Di Mircuso Così almeno L'accetto Subito Ti ho avuto La richiesta Ancora Non è Arrivata Nei menu Nell'applicazione Posso giocare Con te Sì sì Puoi giocare Tranquillamente Faremo Una personalizzata Se ci siete Se siamo in tanti Facciamo la personalizzata Quanti siamo Oh c'è anche Frenci Uno Due Tre Quattro Cinque Ci siete? Io sto aspettando La richiesta D'amicizia Se no Mircuso Se me la date La invio Anch'io Allora Dopo Forti Io voglio Raga GTA Ve l'ho detto Mi deve Andare Poi se non mi va Non ce la faccio Allora Invita una formazione Invita una formazione Mary Dai Mary Vieni Invita una formazione Andiamo in personalizzata Adesso Partire Personalizzate Crea partita Ok Invita Ok Invita Poi qualcuno Deve invitare Altri due Guarda Di ma Leggi tutto Il messaggio Che Franci È stato pure Vede la partita Ottimo Grande Franci Scusate Me l'ero persa Simo Bravissimo Ardencian Come ti chiami Ardencian Te la mandavo Ardencian Astag 2326 Raga Entrate Please Mary Dove sei Eccola Mary Mary Sempre presente Impossibile evitare I giocatori In una partita Personalizzata Nella schermata Iniziale Perché è impossibile Invitare Mary Mary It's impossible Io ci sono Sì Però ne abbiamo Bisogno di altri due Qualcuno scrive No Che è successo Dai Qualcuno scrive In chat Che Franci Che è quello Che di sicuro Ha più amici Di tutti Se puoi invitare Qualcuno A giocare Teo Kakashi Entra Se puoi Così almeno Mancherà Se entra Anche Sarin Not Bad Diciamo Ale scrivi il tuo ID Ma te l'hanno scritto Sopra Te l'hanno scritto Sopra Vabbè Ardencian Astag 2326 Io non posso Scriverlo Non ho La possibilità Di scriverlo Cioè Potrei Però Mi viene Difficile Perché Il computer Ce l'ho Laggiù In fondo Se qualcuno Io lo può Fare In favore E glielo Può Scrivere Please Dai Vabbè Se no Si fa Arrissa Meri 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 Ti vogliamo Ciao Raffi Ciao Raffi Oh Grande Grande Micuzzo Che ci salva Raffi Vuoi venire a giocare A overwatch Aran E l'ha entrato Ok Ce ne mancano Tre Please I primi Tre che entrano It's la fan Ciao Vuoi venire a giocare Che mancano persone Ciao X la fan Grande Mircuzzo Che ha Che ha messo Il tag Bravissimo Chi è che Di chi è che mi ha giunto Kakashi Ottimo Bene È arrivato Kakashi Ok Vai Invitiamo 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 Meri Vieni a giocare Vi do la richiesta Io non ce l'ho Scaricalo No scherzo Se vuoi scaricalo Manca due persone Due persone E poi possiamo giocare Ok Rick È nell'altra postazione Meri E Sarin Sarin Ti prego Vieni Meri Entra No Eccomi Invitiamo Spammiamo inviti Così No È uscito L'altro No Perché è uscito Passate su Twitch Grande Rick Grande Rick No ma raga Sono uscite due persone Ma è uscito Kakashi Perché state uscendo Kakashi È andato via Guarda che perdete Il posto all'osteria Grande Raffi Mi piacciono Le tue emoji Invita Please Ho sbagliato Grande Raffi Grazie mille Ora per favore Spammate in chat Entrate Vogliamo giocare Spammate in chat Entrate Please Per giocare Allora Miciona 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 Grande Digli Devi entrare a giocare Diglielo Entrate a giocare Entrate Voglio bene Miciona Ciao Kakashi Con l'altro account Entrate Vabbè Senti Noi intanto Avviamo Allora così Si può avviare Comunque si Si può avviare Eh La miciona è bella Ma scusa Mi dici Gatto Bellissimo Che vuoi salire Mi fai così Con la zamba Per farti salire Ti faccio salire Ti cocco E poi te ne vai Che senso ha Ciao Che cosa vorresti fare Con queste 6.000 gocce Scusami Ok Saline si è unito Mostra l'hobby Eh si ma là siete full Vabbè Giochiamo con il debuff Giochiamo con Banno della voce Che cos'è Che Banni una parola Vai a bannare una parola Ciao ragazzi Sono appena arrivato Dal bagno Bravissimo Arden io vado Ciao Raffi Ti auguro buona giornata Se ti va poi torna Ciao Fabrizio Siamo con un uomo in meno Siamo appunto Con un uomo in meno Se ti va di entrare a giocare Dove diavolo sono andata Tanto questa Vanno Tutte le parole Ah ma quindi devo star zitta No Non puoi farmi fare una live muta Al massimo due minuti Sono già sul gioco Bravissimo Basta che ti Ti unisci Fai unisci E dovrebbe Fatti entrare Appena puoi Sì ma non sto giocando ora Guardate Se cerco di fronte Un ristorante Per la sera Nel mentre Tranquillo Oh Si è unito Che fabri Che ristorante Vai a mangiare Sarin Che cosa vai a mangiare Di buono Oddio ma qualcuno Ha preso il nano furtivo No Madonna Madonna Si Io mi dico Ma lo diavolo è lungo E intanto il gatto Cerca di uscire Da Il coso Ma è murato Dentro Ehm Condividete la live Condividete la live E continuate a mettere E continuate a mettere Follow e like Se mi va Dimmi Milu Vuoi essere aperto Fammi dominare Allora Allora No No Madonna No Cerchiamo un'altra via Cerchiamo un'altra via Non è quella la via giusta Ok Oddio no Eh Sono andata lì Vediamo se cerco di prenotare un ristorante Meno male Capito SSD di Fortnite Vuoto fotoprofilo Riproviamoci Ma perché Ma la diabla Mi hai Bannato Su Un T Boh Non lo so Non vedo la diabla In tutti i telefoni Ma dove il diavolo sono Io che cerco di capire dove sono Più che altro Raga Tornate indietro Se vedete che state prendendo le paste Donna Eh Non posso fare niente Ragazzi Ok Il tank lo abbiamo tolto Morto Il tank Sarin Morto Vai Chi è che ha bisogno di cure Rick Rick No non è Rick Vai fatto Ce l'abbiamo fatta Una bella difesa Vieni 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 Vai Bravo Madonna Arde questa me la paghi Bella raga Ciao Andrew Che ho fatto No nulla Nulla Non ti vedevo Sui telefoni Tranquilla Nulla Non è fatta Io mandare Che è l'amicizia Comunque Mi hai ucciso E che è quello Che bisogna fare Ah la vedova Che ha la torretta Dai 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 che ti curo Sigma Grande Sigmone Vai Non facciamoli andare oltre Non facciamoli andare Eh sì Vabbè raga Io sto mandando Franky Invita Mi tortellini Alla Brian Cristante Ma chi è Brian Cristante Chi è Brian Cristante Il nano Malefico Vieni Arrivo Un aiuto Raga ma qua Stanno avanzando Senza Senza Problemi No dai Palla 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 Fai il tuo lavoro Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì E la palla fa il suo lavoro e lo fa al posto mio E' bello il lavoro della palla che fa il suo lavoro un'altra volta Io amo la mia palla, fa tutto al posto mio Vado a prendere una persona, scusate Busetete Salve No, sono cascata male Madonna No raga, non dovete camminare sulle cose buttate, spruzzate in terra Mi va le palle Sera porto Sera, tira su se sei triste Cosa, chi? Chi è che tira su se sei triste? No, vado, va tutti contro di me, eh Porta, te sei svegliato L'adoro, per questo mi piace stare qui, mi fa sorridere Oh, grazie, raga Peccato che molti non mi conoscono ancora Mi sono appena scaricato Warzone E' fatto male, è l'unico gioco che non vorrò mai portare La gente di Warzone è cattiva Aia Cioè, avrei un sacco di spec Ma Sono cattivi Tante dire, è molto sus E l'ho fatto apposta Oh, stasera comunque si ha edito il video In cui Voi sapete chi è venuto Sono cattivo? No, no, no Voi sapete chi è venuto a farci visita nella nostra live Non metterò il nome però su YouTube Perché non voglio che avere views per quel motivo lì La mia palla è andata via Ciao Andrew, dimmi Dove? Live su Twitch? Sì, sì, porto, ti ricordi? E' venuta una persona in live su Twitch Che? Cosa? Cosa? Chi? Cosa? Chi? Cosa? Dove? Quando? Perché? E me lo dichi solo ora? Ah, ok Ah, ecco No, io mi sembra di aver visto quasi tutta la live sua E non c'ero Buu, ciao Raffi E non c'ero Ok Ero quasi sicura Però Molte volte mi addormento Cioè, non mi addormento a causa sua Ma molte volte Le live che fa molto tardi Non riesco a vederle tutte E quando vado a vedere le repliche Non riesco mai a vedere tutto Di tutto Ah, oddio, oddio, signore No Madonna Sta spruzzata di cazzo Eh, sapessi Ehm Tranquilli Lo vedete su YouTube Soltanto che non Dirò Metterò il titolo Una piacevole sorpresa Nella live Così E appunto Perché non voglio Prendere views Per pochi È passato Qualcuno E quindi Ma chi è che mi ha fatto saltare Le cervella Vabbè Ne sa paura per il mio bus Sì, bot Fai supporto No, raga Dai, su 50 minuti Che sei su over Di solito Si dura un'ora e dieci In live Sì E tu Ha fatto saltare Io Tu Ho fatto saltare Le cervella Sì, per un attimo Sì Beh, l'altra metà Non ha capito un cavolo Forse Beh Sì Sì Praticare Non ve lo dirò Dovete vedere I video su YouTube Io non dico Niente Beh Sì Beh Appunto Dovete vedere I video su YouTube Sì Se guarda i video Per capire le cose Il nano furtivo Ti faccio saltare Le cervella Ale Zero Ale Ciao Sì La vedova No Sì, vero Acerobai La vedova è stata Veramente Molto Molto Brava Benvenuto Acero Raga Date benvenuto Ad Acero Che si è unito A noi Benvenuto Nella nostra live Se ti va Punto esclamativo Discord Punto Esclamativo Discord Per entrare Nella community No, non l'ho ancora Fatto Fortnite Però se me lo chiedete Così gentilmente Lo faccio Benvenuto Fate punto Esclamativo Discord Così si sente Invoiato Entrare nel nostro Discord Discord Porco Dio Mi inculero Allo Support Vabbè Usa Usa Un altro Rick Bravo Quindi Mio caro Ragazzo Puoi entrare Nel nostro Discord Tramite Quel bel link Esatto 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 Bravissimo Porto E' quello Che bisogna Fare E spammate La live Ovviamente Vediamo Un pochino Tutti Quelli Nuovi Se volete Entrate Su Discord It's Molto Bello Molto Discordante Ma chi è Che mi sta Uccidendo Sarin Ah Sarin E' passato Nell'altra squadra Bravo Raffi Entra anche tu Su disco L'importante Rick Cos Esatto E' importante Che riscuotere I soldi Che Twitch Mi deve dare Twitch Pagami E' da 2 mesi Che non mi paghi Segnata Fa un danno Della madonna Cioè se uno E' bravo A giocare Con Zegnata Fa un danno Guarda che Aia Stavo dicendo Guarda che ci muori Ma poi ci sono Bossa io Ci sono Twitch Non ci paga Commentate Appunto L'ultimo video Che ci deve pagare Twitch Se il video Andrà bene Vi mand Vi manderò Il nuovo video Di Tiktok Dove Poso Un po' di Pose Io Con la mia Manina Non ci arrivo Laggiù in fondo Io e la mia Manina Non arriviamo Laggiù in fondo Oh Rick Se vuoi Prendere Un burdel Te lo Te lo Tiro Un burdel Eccolo Avviva Questo è stato Il tuo primo Errore Madonna Quella Madonna Raga Attenzione a Sarin Attenzione a Sarin Per caso Hai Overwatch 2 Sì È proprio Quello Che vedi Overwatch 2 Vindetta Raga Bisogna Uccidere Sarin Sarin Scusami Ma Sarin Il mio obiettivo Adesso A meno che Non te l'hanno Già mangiato Attenzione Attenzione C'è Sarin Che fa Un Bacellone Vai 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 Madonna Maledetto Ciao Zenaku Come va Ho sentito I vocali Madonna Mia Infatti Una Qua Dove Bene Bene Tre Madonna È quello Che ti meriti Non mi urlare Ok Non ti urlo Più Non vi urlo Madonna Aia Male Raga Condividete La live Ho una domanda Dimmi Bello Dimmi Che domanda È Madonna Poi qualcuno Mi posso Vare a giocare Raga Ma là C'è una Widowmaker Temibilissima A te Ti andava male Uno La mia pallina Ucciderà Qualche un altro No Ma da quando hai Zenaku In realtà È da Molto In quasi tutte Le repliche live Le ho Ho queste statistiche Quando la live Va male Ho meno Di 132 La chat Può confermare Questa più o meno È la statistica Normale Delle nostre live Poi se vanno male Se vanno male Non ci posso fare nulla Quando vanno male Vanno male Dipende Twitch Se ha voglia O no Di mandarmi Viral E di farmi vedere Ciao Rick Voglio bene Io devo capire Chi Widowmaker È molto forte Ed è Sarin Che ha commentato Anche prima Ma non sono bravo In realtà Non lo lasciano Impressionale No sei bravo Sei bravo C'è anche una Ragazza Nel nostro team Che è molto brava Che oggi Non è con noi L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista Quella cecchina L'ho vista Ecco Di diavolo Vai Oh Grande Fabri Ottimo 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 Assist Sarin Ha commentato Giusto Anche adesso Dreaming 74 Grazie per il follow Madonna Santissima Diva 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 quattro buchi Ho letto Una frase Che meno male Twitch l'ha Messa per la Revisione Diva Tai buchi Non Vada Sarin Comunque sia È Lì È lì Anche Grazie 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 per il follow Dreaming Aiuto Questo mi vuole male Ok Mi strutta Ok Ok Ecco 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 Lo sai che io prima finisco la kill E poi ti aiuto Tu 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 Veloce Rimani qui Uno Due No No De nuove Qua È Quello Il numero Perfetto Per Diva Per Prendersi Cura Di Lei Per Prendersi Cura Di Lei È Quello Il numero Bello No Zopa Salve Zopa Salve Salve Che c'ha Yuno Yuno Raga Che è successo Porto Arden ci vuole bene Sì vi voglio bene Ciao Come va tutto bene Sì ciao Matteo Tutto bene Tutto bene Scusatemi Se non vi ho visti Per un attimo Avete iniziato A spammare Tutti insieme Ok Allora Ce l'abbiamo fatta Più o meno Abbiamo due minuti Per concludere Ah la vado Io credevo Il mio team Ci fosse Per questo Sono andata Tranquilla E sicura Di me Non c'era Il mio team A quanto pare Ciao Renegade Sì infatti È Io Tutta tranquilla Così è andata Più o meno Ah Madonna Raga Ma La ulti Di Di Ecco Dura Un casino Sopra Arden Dove Quando Sopra No Ti aiuto Vengo Aiutarvi Ritiratevi Ritiratevi Madonna Era dietro Di noi Attenzione Era dietro Ci ha preso Da dietro Aiuto Oh 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 Combattuta Combattuta È La situazione Combattutissima La situazione Si combatte Si taglia Come un grissino Aiuto Chi è Cos'è Merda Eh Dek Dek È Quello Per aiutarti Meglio 30 secondi Che la faranno I nostri eroi In così poco Tempo Esatto Sigma Non possiamo Fallire Ok Me Madonna L'ha preso Subito Dai Aranel Double No Vabbè Questa l'avete Vinta voi Bravi 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 Qua Restate un attimo Per così Si Si C'è di nuovo Più gente Aspettate Eh Sarin La Sarin Si vedeva Comunque Che avresti fatto Un macchiello Immenso Sei bravo Con Con la Guido Con la Guido Sei molto 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 Bravo Se vede Perfetto No Sarin È Un tizio È un maschio Ed è Non è Forte È Fortissimo Vai Non è Forte È di più Dei Forte È Letteralmente Super Mega Il Plus Ultra Super Mega Plus Ultra Dei Forti Non è Forte Giuro che Non lo sono Si che Lo sei GG Ragazzi Grazie Delle Partite Prego Io riprendo Ana Comunque Sorello Nadiva Non Si Tocca Si Tocca Quattro Volte Infatti No Dico Ana Si 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 Lo so Lo so È Bella Ana Molto Molto Forte Sono Prodata Su Tiktok Ciao Chocandre Se ti va Proda Su Twitch Anche No Movispack Vedremo 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 Movi Spacco Aiuto Aiuto Eh Sì Se vi venite In 50 Io non ce la faccio Non ce la faccio Manco io Come mai hai perso 90 centesimi Come hai fatto a perderli Movi spacco No Ok Perfetto Oh Oh ecco This is Very Very Simpli Simpli E very Simpli Io mi metto qui No Meglio non dirlo No Ecco Ganglie è forte Arde Ma perché Perché Nell'altro profilo Quello da 24.000 Avevo delle monete Che non potevo Utilizzare E così L'ho usate Per dare Soldi A quest'altro profilo Inutile Avere due profili Dove ho un sacco di monete Se non posso utilizzarle C'è una C'è una Muerto Uno Se ci viene la vita Rimani con me Bravo L'ho salvato Io vado su fortnite Forse Forse ne arriviamo Anche noi Buoni Soprattutto Arrosto Io andare a Premderei Che cos'è Premderei Che cos'è Premderei Oh raga Io non so Che cos'è Un Prenderei Sigma Ma dove sei andato Signor Sigma Ritorni da noi Signor Sigma Io la devo curare Ecco Bene Ok ce l'abbiamo fatta Oh pure L'acqua Dopo la Che ricora Adetti Si vuole bene Anch'io a voi Raga Anch'io a voi Con molto Amore Vi voglio Bene Bacini Ma mi fa entrare Su avveroccio C'è una schermata Dalla schermata Poi devi O invitare noi O andare Gioco una partita rapida Che è la prima cosa Che puoi vedere Su Overwatch Io ho l'ulti Per chi volesse Ok Eh No è tipo La schermata Quando Riaviva il gioco Con un po' Recode Delle lettere Strano Mi sembra Mi mandi la foto Su Instagram Così ti dico Che cos'è C'è Perché Secondo me Io so Che cos'è Aia Posso chiedere una cosa Tutto quello Che vuoi Tutto quello Che vuoi Chiedi pure Ma non ho Instagram Ok Invia La sua discord Allora Così ti possiamo Aiutare Ma Ah Vi era andato Via il tipo Ora Capito Perché Almeno Il ruolo Su discord Me lo metti Eh ma Te lo devi mettere I moderatori Cioè I moderatori Possono mettere I ruoli I moderatori Eh ma io Su discord Ma su discord Come si fa Eh Il punto Cioè La croce E da lì Ti fa fare Webcam E da webcam Fai la foto Molto semplice Ah No 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 Ok Ok Oh Ce l'abbiamo fatta Se no Se no Ti puoi mettere I ruoli Solo io Ok Va bene In live era entrato Un certo shock Andrè Si Su Ti tocca Ho visto un film Così Eeeh Ce ne sono diversi Ma do Prenti Sono io Ah ok Ok Ottimo Solo ti puoi mettere I ruoli Allora dopo lo metto Dai Ora si passa A fortnite Raga Quindi vi saluto E si arriva su fortnite Grandi ragazzi Grazie a tutti Ora andiamo su fortnite Ciao Passiamo subito su fort E boh Vediamo che cosa fare Quindi non andate via Cioè rimanete in live Io stacco questa live La reattivo Ciao Un'ultima cosa Dimmi Mike Dimmi Mike Ti devo dire l'ultima cosa Si vabbè Ma non è che vo via Cioè Reattivo la live Quindi puoi dirla Nella live che si crea Ciao Arrivo subito Eh alla prossima Adesso